Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono MagicTropower e oggi siamo in questo nuovo video di Minecraftita Oggi usciranno altri due video, anche se è tardi perché sono rientrata adesso Oggi andremo a fare il magazzino, guardate, ho preparato tutto Legna e porte Mettiamo a cucinare Uh, quanti bracioli Andiamo a iniziare la base Allora il magazzino lo facciamo Il magazzino lo faremo Devo trovare uno spazio grande Chiamare Paolo Mo chiamiamo Paolo, mio cugino, per fare... No, lo invitiamo nel mondo Sto chiamando Paolo, mio cugino Zitto, zitto, non gli dite che sto conmiglio Zitti, eh, non gli dite che sto registrando Lo sto chiamando, sta squillando Sì, sì Squilla Squilla ancora, squilla Squilla sempre, squilla Aspettiamo che viene il mattino, va Andiamo a dormire Mmm, non so dove fare il progetto Risponde, la segreteria telefonica di... Non risponde Chiamiamo Antonio Che è un altro mio amico però che ce l'ha su Xbox Quindi stoppo il video dopo perché deve cercare su Google Anzi, l'inizio proprio forse Vabbè, intanto noi stavamo a dire Facciamo sta casa Aspettate, eh Nessuno c'è E allora faccio da solo Allora, il magazzino lo facciamo un po' lontano dalla mia casa Perché non mi piace tenere tutte le costruzioni attaccate Se levo un attimo di torno sta roba Scusate se è l'ag che sapete problemi di connessione anche con la webcam Lo sapevo che mi finiva il piccone Aspettate, eh Raga, orribile, su un altro piccone Veramente me lo sono rifatto Allora, guardate Scherzavo Vai, andiamo Shift Facciamo attenzione Raga, le flore di Slava Chi sta vedendo questo? 3, 2, 1 Chi sta vedendo questo video? Dei flore di Slava 5, 4, 3, 2, 1 1 Tutti O lasciate bei 10 like, eh Dai, pollicioni in su Pure per me, iscrivetevi al canale video Mi su E sono tutti iscritti Ah, pippa, pippa Dai, cura, iscrivetevi Allora Io non ci faccio più Iniziamo Facciamo un bello grosso Il suo magazzino, eh Oh mannaggia, la pupazza Siete oce Oh mannaggia Senti, me li levo dalla seconda mano Che mi sta pazziata Levate Non me ne frega niente Il telefono della sana Se sta a frega il telefono di mia sorella Poi quando te mena Sono fatti i tuoi Questo magazzino uscirà bello grosso Penso che dovrò prendere altaregna Sì, 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 sì C'ho Sì, minchia Se devo prendere altaregna C'ho solo un altro stack Dove vado? Lo accetto Mi è pure quasi finito Il beco è tutta la pietra che ci sta dentro sto mondo Non so Mi serve la pietra Pietra Mettiamo la pietra per terra Ma che mi finisce la pietra? Sì, 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 sì Spacco l'altra Comunque questi episodi di Minecraft durano troppo poco, penso Mi farò durare di più Davide Perché non riesco a piazzare i blocchi Ma io non mi in cavolo Mi metto pure a cantare Voi morite Perché sapete tutti che io non so cantare Sto fa solo lo youtuber E giocare a calcio Anzi manco lo youtuber Solo un gioco a calcio La mia vita lo si Oh, attenzione Zitto Porca Tua sorella quella bella Vabbè grazie Mi ha dato i materiali Così risalgo Il creeper è stato gentile per una volta E mi ha dato pure i materiali Quindi Non ho problemi Uno Due Tre Quattro Non ci credo Alla, aiutami tu Ce l'ho fatta L'entrata del magazzino sarà qui Non credo che lo finirò in questa puntata Faremo la seconda puntata tra un po' Vabbè Perché sarà pure bello alto Tipo Così Shift 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 Titt Itt 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 Me la avete Ve lo siate mai visti иваемônit SEInst se siete grandi e APASSIONATI Sihetei grandi e app digestionati Venite ci il 10 a Milano il 10 novembre mi incontrerete Anche Davide Che è lì dietro E adesso non c'è più Tutti bene Bella raga ci ha lasciato da soli Meno male Sembra Ruppe sta Spero che non mi abbia sentito Perché me le crocchia Anche se se voglio Meno gli dire un cazzotto Gli spacco la faccia Oh guardate il figata Si muoverà l'allentatore Invece di Guardate come si muoverà l'allentatore E poi questo Tutti sti oggetti Do li tiene dentro al sedere Primo do li piglia Vabbè pialli si perché Che scava Però tu se li tieni Raga sta caverna mi interessa La caverna che ho visto prima Ho visto prima una caverna Che mi interessava un bordo Dado l'avevo vista? Io voglio del ferro Perché ancora non trovo del ferro Questa cosa non mi piace Sì la mia prima mucca La prima mucca Sì Mi devo fare la matura Alma tula mi devo fare l'almatura Guarda quanti Questo è il paradiso baby vi dico nel prossimo domani penso che non ci sarà solo penso che domani non ci sarà solo minecraft ita ci saranno anche bad words però ditemi voi se devo fare solo un episodio di minecraft ita e un altro di bad words oppure tutte e due di manca fita volete vedere il mio caccio fuori mio fratello sarà divertente metterete tutti a ridere il cuoio non mi serve l'armatura non me la faccio con quella faccia in ferro e l'armatura raga questa puntata cambia tutte disordinata non farò più il magazzino lo faremo nella prossima puntata che uscirà tra un'oretta verso le 8 9 e faremo subito dopo questo uscirà e faremo il magazzino adesso devo andare a sperare questa no questa questa vada acqua di vetro penso sì sì penso di sì sì era quello dove stava la pecula marroni dove ci avevi trovato uno zombie e tanto smeraldo ma quale smeraldo ma dove ci trovavano i smeraldi nelle grotte dove si vogliono trovare e come li fai spaccati col piccone che blocchi sono non sono blocchi mettiamo a cuciri ok si alza presto e si va alla caverna se la ritrovo santo dio voglio solo un po di ferro me lo volete dare un po di ferro vi devo staccare la gola cioè io non lo so hanno mandato un messaggio dove sta avevo trovato una grotta molto bella però questa eccola mi basta solo un po di ferro ok ho dei brutti presentimenti su questa caverna ciao sai che mi stai molto simpatico tu dai sploni sei caduto legge di minecraft mai scavarsi sotto i piedi è la prima legge di minecraft la prima e vabbè pure tu ti ci metti se non mi rompe che ti spacco tutto non so se è molto intelligente andare in questa caverna ancora qua stai dai che devo chiudere il video dove cavolo stava lì lì la salita per salire eccola non ho trovato del ferro immaginatevi la sfuga se tutti trovano il ferro io no io non so non riesco a trovare il ferro che cavolo ero? vabbè raga chiudo il video aspetta vado a casa giuro vado a casa e lo chiudo non uccido nessuno devo muovermi eccoci raga questo video finisce qui noi ci vediamo nel prossimo tra poco e ciao ci vediamo al magazzino ciao